da quando vai in moschea col nonno ti vedo molto bene ti vedo cambiato penso che dio ha sentito le mie preghiere ma si raccontami tutto stavamo pregando ho detto addio di darmi i soldi non sono le cose che domandi al signore però vabbè continui dopo aver chiesto dio i soldi ad un certo punto è comparso uno con un abito bianco con una borsetta piena di soldi un miracolo abdu sai benissimo che quella persona che raccoglie i soldi della borsetta li mette da parte per dare in beneficenza come scusa lo sai benissimo mi sono infilato dentro il suo abito non è possibile sì papà ho preso il sacchetto delle sue mani sono scappato e gli ho detto prova a prendermi chiama pure la polizia e cosa hai fatto con tutti questi soldi sono andato a svuotare la pasticceria